Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai drop e nonostante che questa settimana i miei drop siano poveri, principalmente a causa del fatto che sono entrato nella sessione di esami settimana prossima ne uno, tra due settimane ne un altro, quindi mi sto concentrando sull'università naturalmente ci tengo a ribadire un concetto che evidentemente non a tutti è molto chiaro questa serie è nata sì con lo scopo di mostrarvi quelli che sono stati i miei drop visto che molti me lo chiedono ma è nata anche con lo scopo di dare a voi, chi guarda questo video e chi successivamente commenterà, uno spazio per parlare dei suoi drop quindi il motivo per cui faccio uscire ogni settimana la puntata nonostante o io non abbia praticamente giocato o a causa del fatto che il mio pvr sta andando a puttane come l'ho già detto più volte e non riesco più a registrare tutto per esempio negli stream non lo uso anche per registrare perché si surrescalde inutilmente porto lo stesso questa puntata puramente per dare uno spazio a voi chiusa questa parentesi, come ho detto questa settimana ho fatto poche attività e ad essere onesto ho completato giusto un cala la notte ieri proprio per fare questo video ho fatto una volta anche le prove di Osiride ma è arrivato all'8-0 quindi niente faro e dei pacchetti non ho trovato niente di utile non che nel cala la notte che ho svolto ieri ossia quello degli squaiatori psionici mi sia andato tanto meglio infatti il mio drop, il mio bellissimo drop a fine partita è stata una sidearm da 300 che ho tipo smontato alla velocità della luce perché naturalmente non me ne facevo assolutamente niente e per quanto riguarda i miei drop, ahimè è tutto qui mi piacerebbe qualche volta completare il raid di Oryx giusto per provare a droppare da Golgroth le braccia 320 che mi mancano con tutti i 3 pg ma onestamente non ho tempo quindi probabilmente quei drop arriveranno tra molto tempo in ogni caso, i vostri? cosa avete droppato e cosa invece avreste voluto droppare? come al solito fatemelo sapere qua sotto con un commento e dicendo questo il video volge il termine spero sia stato il vostro gradimento, vi invito a sharemi il vostro feedback iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto un'elite con un mal di gol assurdo vi saluta e noi ci sentiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi